Il 19 luglio del 1966 è la data che tutti ricordano, come il giorno, della più grande disfatta nella storia del calcio italiano. In Inghilterra si celebra l'ottava edizione della Coppa Rimea e l'Italia a Mildesbra affronta la Corea del Nord, ultima gara del Gironeri Minatomi. Dopo aver battuto il Cile nella gara d'esordio e perso di misura dall'Unione Sovietica, agli azzurri potrebbe bastare anche un pareggio per conquistare il passaggio del turno. La Nazionale Asiatica non è certo un avversario temibile, ma quel giorno, quel triste pomeriggio, all'Ireason Park, succede l'inverosimile. Gli azzurri, fin dai primi minuti, tradiscono una strana ansia agonistica, hanno fretta di sbloccare il risultato, ma il gol non arriva. I coreani invece corrono dappertutto, sono veloci e rapidi e gli azzurri faticano a tenere il ritmo. Al 35esimo poi, il ginocchio di Bulgarelli fa crack. All'epoca non sono previste sostituzioni e la squadra di Fabri è costretta a giocare in dieci. E' un cattivo presagio che anticipa di poco la catastra. Pochi minuti dall'intervallo, Pac Doic inventa un diagonale velenoso e batte Albertosi. L'Italia va sotto 1-0 e in preda ad uno stato confusionale, non riuscirà più a ribaltare il risultato. L'Italia viene mestamente eliminata e nessuno dimenticherà mai quell'infausto pomeriggio inglese.